La solidarietà si impara da piccoli alla scuola primaria di Marasan che da un anno ha scelto di sostenere un'importante iniziativa della città della speranza. Adottiamo un ricercatore il nome del progetto per il quale la primaria del comune di Marostica ha raccolto ben 500 euro grazie alla vendita di prodotti realizzati con le proprie mani da alunni ed insegnanti all'interno di Orto in Condotta. Con i prodotti raccolti dall'Orto e poi con ciò che abbiamo creato come il dado vegetale, il pesto, diversi prodotti confezionati, preparati dagli alunni abbiamo raccolto fondi per donare alla città della speranza. A ricevere assegno e attestati di stima rappresenta questa mattina il presidente della città della speranza Stefania Fochesato. Oggi è una giornata particolarmente emozionante perché vivere una realtà dove i bambini si sono impegnati con i prodotti coltivati da loro per raccogliere fondi per un progetto così importante come adottiamo un ricercatore e allo stesso tempo sapere che c'erano qui oggi, qui direttamente un bambino che è in terapia alla fondazione Città della Speranza quindi si sta impegnando anche per aiutare anche lui e altri bambini. Direi che tutto questo dà un senso importante all'educazione.